Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori, Licia, Angela, per avermi invitato a parlare in questo webinar dedicato a uno dei programmi di maggiore successo, come abbiamo visto, che vede l'Italia, il paese con il maggior numero di progetti globali. Io parlerò dell'implementazione, che al di là del peso minore, il 20% o meno rispetto all'impatto, che pesa 30 e l'eccellenza 50, in realtà l'implementazione va, come dire, fatta anche nella prospettiva e considerato che ci consenta di verificare e in qualche modo sostanziare l'affattibilità delle nostre idee, la concretezza dei nostri sogni, per dirla con Mary Curie, e ci consente anche di capire fino a che punto possiamo osare, no? E questo è uno delle, come dire, lo spirito che ci deve animare nella formulazione di un progetto Mary Curie. È la fase dunque nella quale si cerca di incrociare, di fare il matching tra visioni e attività da svolgere, tra bisogni e scelte. Dunque, nel mettere i piedi per terra traiamo anche spunti sia per incrementare il tasso di un'attività, da cui dipende l'eccellenza, sia per verificarne e migliorare l'impatto. Quindi poi è una fase cerniera tra le due fasi di argomentazione dell'eccellenza e del impatto. Questo, brevemente, questo è, come dire, l'outline della mia presentazione, puoi andare avanti. L'implementazione dunque è questa fase in cui visioni e obiettivi divendono, appunto, si concretizzano in attività, in piani di lavoro. In piani di lavoro intendiamo, diciamo, la struttura a quale noi andiamo a allocare, argomentare i task e le risorse, spieghiamo la gestione, dal punto di vista delle procedure e della struttura, compreso anche l'indicazione e l'analisi dei rischi e, naturalmente, dobbiamo anche descrivere l'ente beneficiario, gli aspetti legati alla sua logistica, alle infrastrutture. La prima sottofase è quella di descrivere un po' la coerenza e l'efficacia, che è quello che ci consente di valutare se c'è un ottimo matching tra visione e realtà. Questo attraverso la pianificazione del lavoro, che comprende i deliverable risultati, le pietre miliari, le milestone e quindi le risorse mobilitate che dovranno poi garantire il raggiungimento degli obiettivi sia della ricerca sia della formazione. Naturalmente non si può prescindere dal diagramma di Gantt, che include la descrizione e quindi l'elencazione dei pacchetti di lavoro, l'indicazione dei principali risultati e delle milestone, eventuali fasi di staccamento, di second man. Nel mio caso c'è stato anche un sei mesi di staccamento presso un'università del Regno Unito e la pianificazione delle attività di diffusione, valorizzazione e comunicazione, laddove è applicabile. Questo è uno slide che in qualche modo dovremmo darle per scontato, però è bene anche ricordare la differenza tra deliverable e milestone, anche perché talvolta c'è poca chiarezza, io lo vedo anche nella mia attività di referaggio, tra deliverable la chiarezza è l'impostazione del deliverable e il rapporto anche alle milestone. Deliverable è il risultato di un'azione distinta che può essere un rapporto, una routine di un software, dove è un documento, un diagramma delle mappe digitali. La milestone può coincidere con un deliverable chiave, ma in realtà va utilizzato come un'occasione per controllare il progetto, è un punto di controllo di una data attività, che aiuta poi a tracciare i progressi del progetto stesso. Possiamo anche prevedere delle pietre miliari intermedie, ma diciamo che è fondamentale una chiara articolazione del piano di lavoro con i risultati e i milestone. Un altro punto importante è discutere, descrivere l'appropriatezza della gestione, incluso anche la gestione dei rischi. È fondamentale quindi descrivere in maniera chiara, con un preciso riferimento poi ai contenuti tecnico-scientifici del progetto, della struttura e dell'organizzazione di gestione, spiegare anche i meccanismi di monitoraggio dei progressi e discutere anche dei rischi dell'attività sia di ricerca e amministrativa, mettendo a punto anche delle strategie, dei piani di mitigazione in caso di rischio, includere, e discutere anche laddove applicabile il coinvolgimento di un'altra entità che abbia un legame poi legale con l'ente beneficiario. Infine, è bella descrizione dell'ambiente, dell'ente e del beneficiario delle attività di ricerca e di formazione. È fondamentale spiegare molto bene quali sono i compiti e gli impegni del beneficiario e delle altre organizzazioni partner, descrivere la logistica, le strutture offerte, l'infrastruttura. Ora, più avanti credo Costanza ci spiegherà quali sono queste infrastrutture, quali sono le strutture che il nostro istituto può offrire a chi vorrà, diciamo, candidare un progetto. Mi avvicino alla conclusione. Ecco, questo è giusto una slide che mostra un po', come dire, la mia esperienza. È stata un'esperienza nella quale proprio l'implementazione, secondo me, ha giocato un ruolo importante. Avevamo un dubbio con il fellow che il progetto potesse essere un po' troppo audace, poco, diciamo, come dire, difficile in qualche modo da, non dico comprendolo, ma insomma, diciamo, abbiamo lavorato molto sul cercare di rendere concreto, fattibile, un progetto particolare, perché mettevi insieme approcci di automazioni basate sull'uso del remote sensing con metodi di agent best model, due cose che insieme non sempre, come dire, si trovavano in letteratura per studiare anche una cosa particolare, lo studio dei flussi dei traffici nell'età del bronzo in un'area bacino, nella bassa mesopotamia, quindi tra Iraq e Siria, dove appunto non era possibile anche, non era possibile poi svolgere un'attività evidentemente di validazione, no? Di verifica a terra. Per cui, diciamo, questo potrebbe essere un elemento, come dire, di criticità che abbiamo cercato in qualche modo di spiegarlo bene nella fase di eccellenza e soprattutto argomentarlo proprio nella fase di implementazione. In conclusione, un progetto secondo me si vinge con una buona, giusta dose di, come dire, chiarezza, visione, tanta innovazione, come ha spiegato molto bene, Graziano Lanocchia e gli altri che l'hanno preceduto, è ma una giusta dose di realismo. Perché l'implementazione è proprio questa fase cruciale nella quale appunto visione, nuove idee, si traducono in fattibilità e quindi con una buona probabilità di avere un ottimo, diciamo, giudizio, un'ottima valutazione. Chiudo con una delle tante frasi di Merichiori, nella vita non c'è nulla da temere, solo da capire, per cui buon in bocca al lupo a chi vorrà cimentarsi con il Merichiori, sperando di avervi qui nel nostro Istituto di Scienze e Patrimoni Culturale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.